Salve a tutti, ci troviamo qui a Perugia dove si sta svolgendo il XIX Congresso Nazionale della Gila degli Insegnanti. Sono iscritta alla Gila da tanti anni, ma è la prima volta che partecipo a un congresso e devo dire che l'atmosfera che si respira qui rende bene la vivacità di questa nostra associazione professionale. Bello anche il contesto in cui ci troviamo, che è quello dell'Hotel Joe, alle porte del centro storico della città. Si è appena concluso lo sfoglio che ha decretato la rielezione di Rino Di Meglio, che è stato confermato coordinatore nazionale per il prossimo quadriennio con un'ampissima maggioranza. Proclamiamo eletto per il quadriennio 2016-2020 Rino Di Meglio. Non voglio essere ristorica, ma dopo questa riconferma si respira tra i delegati un'area che definirei di festa. A conferma della vitalità di un sindacato in cui il confronto sui contenuti è sempre franco e costruttivo, ma talvolta può essere anche aspro, come del resto è giusto che sia laddove la dialettica democratica è praticata seriamente. Nel suo discorso dopo la rielezione il coordinatore nazionale ha ringraziato il suo competitor Gennaro Nardinocchi per essersi candidato affermando di rifuggire gli unanimismi perché il confronto è il sale della democrazia. Io volevo ringraziare Gennaro Nardinocchi per la sua candidatura perché chi mi conosce sa che odio gli unanimismi perché ritengo che il confronto sia il sale della democrazia. Io ho dei ricordi personali che volevo condividere con voi, io non ho mai fatto parte del suo partito, ma ho condiviso parecchie battaglie di Marco Pannella, da giovane negli anni 70 ho partecipato assieme a lui alla Lega Italiana per il divorzio, quella che ha pronto al famoso referendum che ottenne l'inserimento definitivo del divorzio sul nostro ordinamento, ho condiviso altre battaglie di libertà, ho sempre avuto per lui un grande rispetto, era una persona molto vicina alla mia città, ho detto anche consigliere comunale di Trieste quando faceva una battaglia civica contro una zona industriale che volevano contribuire sul caso, quindi ho dei ricordi anche diretti e personali. Ricordo anche, e voglio ricordare all'Assemblea, che il partito radicale negli anni quando c'era la prima Repubblica fece un intervento molto importante nella persona di un altro che era vicino a Marco Panela, che era Lorenzo Slip-Livers, che era parlamentare, per ottenere che nelle norme sull'autonomia che si stavano scrivendo in quel momento fosse inserito una libertà molto importante che neppure la buona scuola è riuscita a scarpire, quella di dire che nell'ambito della relazione del POP, oggi il POP, che facevano i collegi ridocenti, dovessero essere salvaguardate anche le scelte individuali dei singoli docenti, questa è libertà di insegnamento. Sul video dopo la sua proclamazione, Lino Di Medio è stato ringraziato per quanto ha fatto in questi anni con un'importante opera d'arte di un artista salentino, dal titolo significativo di Laurus Magistro. È un'opera d'arte creata da un artista salentino, l'abbiamo titolato Laurus Magistro. La motivazione è la pronda di Laurus, immoleggiante vittoria e trionfo, magistro e maestro di scuola ma in senso ampio è anche chi conosce veramente la disciplina così da abbracciarla e trasmetterla con grandi doti umani. Laurus Magistro Arrino Di Medio, che opera magistralmente da oltre vent'anni nel sindacato della scuola, dedicandosi alla crescita e al riconoscimento della gita degli insegnanti, elevandola con grande abilità e d'accortezza a livello del sud. Vado lì a parlare. Scusate un attimo, vorrei conferire al neoretto ordinatore Rino Di Medio qualche tavoletta di cioccolato di modica con il logo del diciannovesimo congresso. Ricevendo la scultura Rino si è sinceramente commosso e ha ricordato che in questi anni la gilda è praticamente diventata la sua famiglia. Colleghi grazie, sono commosso anche dalle attestazioni d'affetto. D'altra parte, in tutti questi anni voi siete diventati praticamente la mia famiglia. La porta, insomma. Se lo vuoi, se lo vuoi. Non solo Rino ha operato con tenacia magistrale, riuscendo a far crescere l'associazione in un momento storico di difficoltà generale della rappresentanza sindacale, ma soprattutto lui è stato capace di esprimere lo spirito plurale che è la cifra della gilda, interpretando politicamente i bisogni dei tanti insegnanti che mettono al centro del loro impegno quotidiano la professione docente, la libertà di insegnamento e la Costituzione della Repubblica. Costituzione che non è un documento obsoleto, cosa di cui una certa vulgata oggi imperante vorrebbe convincerci, ma è la carta che garantisce i diritti e i doveri di ogni cittadino e per questo dobbiamo difenderla e questa necessità è uscita con forza e con determinazione anche qui a Perugia. Queste sono le mie impressioni, un saluto da Perugia e vi ringrazio davvero per l'attenzione. Grazie.